Ciao a tutti, sono Teninati, benvenuti su un altro video. Oggi parliamo di Nick Walker e Milus Sacev. Milus Sacev, per chi non lo conosce, era un ex bodybuilder che ha gareggiato anche a Mistà Olimpia, è molto conosciuto sul mondo di bodybuilding, però adesso lui fa allenatore a tutti gli atleti per Mistà Olimpia. Non tutti, quasi tutti gli atleti, perché lui è allenatore di Regan Grimes, lo so che segue Samson Dauda, anche ha collaborato con Michael Criso. Questo video qua, lui ha fatto un video di pubblicità per una palestra con Nick Walker, anche ha fatto questo video qua. Praticamente lui ha detto che Nick Walker ha tutte le qualità per vincere Mistà Olimpia e secondo lui Nick Walker vincerà Mistà Olimpia. Che ne pensate voi su questa cosa? perché Milus è uno che sa, essendo che ha lavorato con tantissimi bodybuilder, e se lui dice una roba di genere, è un pochettino, credo, però non credo personalmente che Nick Walker riesce a battere Big Grammy questo anno, però di sicuro sarà sui primi call-out, se non sui primi tre probabilmente anche. ditemi la vostra guardando questo video, perché questo video non è un video editato, praticamente è un video che hanno preso da backstage, diciamo, quindi si vede la condizione e tutto di Nick Walker, cinque settimane prima di Mistà Olimpia, perché questo video fa vedere anche la condizione di Nick Walker, è tutto pelle, non c'è grasso, quindi ditemi la vostra, ci vediamo al prossimo video, sono terminati, let's go!